Stiamo lavorando, cercando di trovare le mani per proteggere la nostra democrazia. Quindi è importante che parliamo con nomi e chiamati di Cina, di Russia, di Venezueli, che parliamo di strategie di maligna influencia come Qatar e come Marocco. Musiamo per questo reagire riuscire a pensare, non potremmo scegliere la risposta e cercare di quello che siamo un forte europeo. Non potremmo scegliere la risposta quando la nostra democrazia è a stake.